Mercoledì 25 agosto 2021, un cordale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellonesi nel mondo. Nel nostro studio in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Corriere delle Alpi, ecco il titolo principale che parla di Belluno e dei suoi boschi. L'epidemia dei boschi è allarme per il Bostri, con numeri raddoppiati in un anno, attaccati anche alberi sani, dovranno essere abbattuti. L'approfondimento lo troveremo a pagina 18. Foto di copertina a Montegrappa nell'UNESCO sarà un laboratorio di sostenibilità dalla memoria della guerra affinché non si debba più spargere sangue a sito baluardo della sostenibilità ambientale e della pace tra uomo e ambiente naturale. Il Montegrappa si prepara a entrare nel novero delle riserve della biosfera UNESCO. Manca soltanto la decisione finale che verrà presa dal Consiglio internazionale di coordinamento del Mab UNESCO dopo il giudizio favorevole che è stato espresso dall'organo tecnico di valutazione. L'approfondimento lo troveremo a pagina 12 e a pagina 13. Il Governo studia la proroga, Green Pass valido 12 mesi dopo la seconda dose. Provincia, Unioni, Montane, 2 milioni per sistemare strade e sentieri. Feltre, Senevac e Staro, capo del SERD, un altro colpo per la psichiatria. Dopo 30 anni di servizio, il responsabile del servizio contro le dipendenze si trasferisce all'USL di Trento. L'approfondimento di Milano lo troveremo a pagina 24. L'imbarazzo per la nostra felicità. L'articolo di Giorgio Sbrissa. Certo che è imbarazzante scorrere i post nei social con la tragedia afghana inframmezzata da gente che si incocona di grigliate di agosto e di birre che viaggia felice e mostra panorami di infradito. Vero che non è in Afghanistan fino a ieri fossero rose e fiori visto che la combattono da 40 anni una guerra per il controllo delle vie della sete e dell'oppio prima con l'Unione Sovietica e poi con gli Stati Uniti e con l'Europa intera. Ma oggi fa ancora più specie. Richiamo di spalle, lago del Miss, giorni di agonia in una forra. Cervo nel parco lasciato morire. L'approfondimento di Stefano De Barba lo troveremo a pagina 26. Questa dunque è la prima pagina delle Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Incominciamo come sempre con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Titolo messo in primo piano per quanto riguarda il Gazzettino. Profughi, solo 100 posti in Veneto. Parliamo ovviamente di quanto sta avvenendo in Afghanistan. Zappa l'orto, non c'è altra disponibilità per i migranti e nessun piano B. Mi appello ai sindaci. Un altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino. L'Odissea di Giacomo. La regione invia gli ispettori. La morte dopo il ricovero tra Adria, Chioggia e Padova. La procura apre un'inchiesta. L'approfondimento lo troveremo a pagina 9. Venezia muore tre giorni dopo il vaccino. L'USL prematura ogni valutazione. Foto di copertina dalla Germania per riaprire l'hotel dei nonni. Notizia che ci porta in provincia di Belluno. La sfida di una coppia di gelatieri a Misurina. Lo chalet Alpenrose a Misurina. Tornato a vivere dopo 17 anni. La firma di Piol la troveremo a pagina 13. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda sempre l'edizione del Gazzettino di Belluno. Santo Stefano, 100 giorni in terapia intensiva. Vaccinatevi. L'approfondimento sempre di Piol a pagina 5 dell'inserto. Incominciamo con pagina 2. Approfondimento in merito al Covid-19. La riapertura di settembre. Scuola dai docenti via libera al Green Pass. Ma servono più aule sull'obbligo di certificato. I sindacati non rompono. Bisogna far ripartire le elezioni. Le liste dei prof vaccinati ai presidi. Verso il no del garante della privacy. Il Tar del Lazio boccia il ricorso. Legittimo chiedere il QR code al personale scolastico. E tra i sanitari più 600% di casi non gravi. L'ipotesi immunità del vaccino in calo. Infermieri e medici tra i primi a ricevere la profilassi. La protezione si riduce ma basta per evitare ricoveri e decessi. Sui bus torna il controllore. Vigilerà sul distanziamento. Le linee guida per il trasporto pubblico. Mascherine e capienza estesa fino all'80%. Venerdì l'ok del CTS. Domani il Ministero sottoporrà il documento ai governatori. Pagina 4. Sempre in merito all'emergenza Covid-19. Muore tre giorni dopo la prima dose di Pfizer. La famiglia fa denuncia. Mira aveva 51 anni. Si è sentito male a rientro a casa. Febbre e dolori agli arti. I parenti si sono rivolti alla magistratura. L'usla serenissima. Pronti a collaborare. L'edema alle gambe. La prescrizione di un diuretico. Ma il mattino seguente non si sveglia. Vani i soccorsi. Ed ecco un primo piano della vittima. Alessandro Cavarretta. 51 anni di mira. Deciduto dopo la somministrazione del vaccino Pfizer al centro Covid-19 di Oriago. Che vediamo in questo scatto. Zaia va fatta a chiarezza nell'interesse di tutti. Altri due decessi. Ricoveri. Su il governatore. L'accesso alle vaccinazioni deve essere volontario. I ragazzi attualmente sono al 66%. Questi sono i numeri. 470 i contagi registrati in 24 ore in Veneto. Ovviamente contagi riferiti al Covid-19. 45.000 i tamponi effettuati. 10.539 molecolari. 35.161 test antigenici rapidi. 55 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. 3 in più rispetto al giorno precedente. 218 i posti letto occupati nelle aree mediche non gravi. Anche in questo caso si registra una crescita del più 2. 79% i veneti che hanno già ricevuto prenotato il vaccino. E a proposito di campagna per la profilassi. Il vaccino sia obbligatorio per chi lavora tra la gente. Troverete un'intervista a Guidorasi. Il consulente di figliuolo. Una misura fondamentale ma la decisione è politica. Terza dose inevitabile. Niente immunità di greggio se non si immunizzano i bambini. L'imposizione si può decidere già da tempo. In Europa i farmaci sono autorizzati in via definitiva. Ripartono le cartelle. Il governo prepara un'altra rottamazione. Tra sette giorni la consegna di 20 milioni di atti congelati da un anno e mezzo per la pandemia. Intanto si lavora una nuova pace fiscale per accompagnare la riforma della riscossione. Veneto. L'autonomia boccia al testo di Gelmini. Zaia. La relazione che ci hanno dato presenta problemi di costituzionalità. Ma quattro anni dopo il referendum è ripartita la trattativa. Ce la faremo. Questa è la dichiarazione di Zaia. Il ministro va riaperto al dossier definendo i livelli essenziali delle prestazioni. Questa è la dichiarazione del ministro. Maria Stella Gelmini. La colletta, l'asta, la telefonata. Così il busto del Doge Corner è riuscito a tornare a Venezia. E continuiamo con pagina O9. Ispezione della regione. La notizia che ha avuto un richiamo anche dalla prima pagina di questa edizione del Gazzettino. È un'indagine sulla morte del piccolo Giacomo. La procura di Padova ha aperto un fascicolo sul decesso del bimbo di 5 anni di Porto Viro. Due ricoveri ad Adria e Chioggia hanno rilevato solo una gastroenterite. Poi il tragico epilogo. Torino crolla una palazzina salvate 4 persone. Bimbo di 4 anni non ce la fa. Il bambino aveva 4 anni all'origine della Shaguro. Probabilmente una fuga di gas. Notizie dall'estero. Biden via il 31 agosto stretta dei talebani. Voli soli per gli stranieri. La crisi in Afghanistan. Il G7 si adegua ma chiede corridoi sicuri. Per chi non farà in tempo a lasciare il paese. Draghi. Contatti aperti anche dopo quella data. E rilancia su Russia e Cina. E continuiamo adesso con l'edizione del Gazzettino di Belluno. Adentriamoci immediatamente al suo interno con pagina due pastori sentinelle ronde in Alpago. Al via un progetto finanziato con fondi della regione per aiutare gli allevatori contro i frequenti attacchi. I guardiani professionisti controlleranno vari pascoli di piccoli allevatori di razza Alpagota ed eviteranno l'abbandono. Franza Zanne è consigliere di Chies. C'è chi tiene le pecore in stalla per paura. Così si sentirebbero sicuri. E ancora la Valbelluna si arrende. Burocrazia e perdite infinite ti fanno passare la voglia. Hanno venduto i capi, rimasti e chiuso il sindaco cesa. La conseguenza è anche l'abbandono dei territori marginali. Queste altre dichiarazioni in merito appunto all'arrivo del lupo in provincia di Belluno e ai danni subiti dai pastori. Vediamo se questo progetto porterà delle conseguenze positive per i pastori bellunesi. Prima l'alpeggio era un periodo magico, ora è un incubo. Papà dorme in tenda. Lo sfogo di Anna Eccel, la figlia del gestore di Tre Magli a San Vito, che chiede aiuto. Il pastore vero non molla mai, ma dovete risolvere il problema. Stufi di essere presi in giro. Ma quale convivenza? Il lupo e i pastori non lo vogliono vedere nemmeno in cartolina. L'ultimo sfogo arriva dalla 26enne Anna Eccel. La sua famiglia gestisce Tre Magli a San Vito di Cadore, che vengono affittate ogni anno per far pascolare circa mille capi di bestiami. Finché non c'era il problema del lupo, spiega l'alpeggio, era un periodo di riposo per il pastore, ora è diventato un incubo. Bisogna spostarsi di continuo. Mio papà dorme in tenda vicino al gregge. Nel 2020 i lupi hanno attaccato il loro allevamento e 25 pecore sono rimaste uccise o ferite. Difendiamo il nostro lavoro, ma troviamo persone cieche che osannano la convivenza con il lupo. Sono indignata nel vedere sgretolarsi il gregge di famiglia. Ha costato più di 40 anni di lavoro, queste altre dichiarazioni della giovane allevatrice bellunese. E in provincia, otto branchi stabiliti, predazione in calo. Il consigliere Franco De Bon ha lavoro con altre province per un protocollo coinvolto il Ministero. Il calo delle predazioni e fisiologico non si hanno ancora dati precisi, ma la stima che fa la Polizia Provinciale è che le razzie di pecore da parte del lupo siano quasi dimezzate rispetto all'anno scorso. Loris Pasa, responsabile dell'ufficio faunistico della provincia, parla di un fenomeno conosciuto in tutti i posti. All'inizio si registra un elevato numero di attacchi da questo predatore, spiega e poi le predazioni tendono a stabilizzarsi. Questo avviene perché le persone adottano precauzioni e quindi il lupo ha sposto la sua attenzione dagli animali domestici a quelli selvatici. Cosa fare per contenere l'abbandono della cura del territorio? Il consegnere delegato di Palazzo Piloni, Franco De Bon, fa sapere che le riunioni sulla delicata questione del predatore proseguono una cestata solo la scorsa settimana con la Regione. Passiamo a pagina 5. La testimonianza, la lotta al virus, ho passato 100 giorni in terapia intensiva. Vaccinatevi tutti. L'imprenditore 68enne del Comelico, Remo De Mario, racconta la sua odissea «Mi sono ammalato di Covid, all'inizio sintomi blandi, poi il crollo. Improvviso il contagio risale ai primi mesi del 2021 ed ha coinvolto tutti gli addetti dell'azienda di cui è titolare. La malattia, la situazione precipitata quando all'interno dell'azienda familiare la Costa Ennio S.R.L. è scoppiato a un focolaio. Tutti i 13 dipendenti sono risultati positivi. Remo si è ammalato per ultimo il 9 marzo, in modo più grave degli altri. All'inizio qualche linea di febbre, poi ha cominciato a stare meglio e sembrava tutto risolto. Un giorno si è rialzato, racconta Sandra, e mi ha detto «La vita non va. L'abbiamo portato dal medico di base che ci ha consigliato di andare al pronto soccorso. Eravamo sicuri che l'avrebbero mandato a casa. Sintomi gravi non ne aveva. Remo viene tenuto in osservazione per qualche giorno all'improvviso le sue condizioni. Peggiorano». Nuova tegola per la provincia. Dopo Terna, anche Enel Altar e Enel Distribuzione ha impugnato il canone unico che comporta aumenti di tariffe. Siamo a pagina 6 del Gazzettino di Belluno e rimaniamo in questa pagina con un'altra notizia di spalle. Il nuovo progetto, catastro e agenzia nell'ex caserma. Si sposteranno da Via Feltre alla Tissi, ma prima le opere. Notizia che riguarda il capoluogo bellunese. Cervo in forra, morto di stenti. Ci avete vietato di salvarlo. L'animale è bloccato in un canyon al parco. Stava bene abbandonato. Poi è deceduto l'approfondimento. Lo troveremo nell'edizione del Corriere delle Alpi. Notizia di spalle. Addio a Saviana e la sua volontà. Salvate l'asilo. Oggi alle 14.30, camera ardente a Puos. Alle 16.30 i funerali. Si è impegnato fino all'ultimo per evitare lo spopolamento e la carenza dei servizi alle esecue offerte per la materna di Puos. Continuiamo con pagina 8. Grappa, riserva della biosfera. In arrivo il sigilo dell'UNESCO. Parere favorevole a riconoscimento da parte dell'organo tecnico di valutazione. Manca il passaggio formale al Consiglio internazionale, ma il più del lavoro è fatto. Premiata la lunga collaborazione tra 25 comuni disseminati nei territori delle province di Belluno, Vicenza e Treviso. Feltre, volo fatale dal dente del gigante. Sabato l'addio sarà celebrato sabato alle 15 nella chiesa parrocchiere del Boscariz di Feltre. Il funerale di Giovanni Marconi, il 49enne, morto venerdì scorso mentre scalava al Monte Bianco. La salma si trova ancora in Francia. Dopo la cremazione il corpo rientrerà in Italia, probabilmente venerdì. Il giorno successivo l'ultimo saluto nella chiesa del Boscariz e la sepoltura nel cimitero di Fonzaso, comune di origine. Ancora da Feltrino, sovramonte, sorriva a chiesa di San Giorgio, via ai lavori della scalinata. Il terzo progetto sui siti religiosi, costo totale è 600 mila euro. E sempre da sovramonte, a un ex albergo pavione, demolizione completata. Luce accese, notte in bianco, l'incupo ladri sveglia il paese, gente in strada anziché a dormire per tenere controllate case e proprietà. L'interrogazione della minoranza sulla videosorveglianza è servita a qualcosa? E la salenda del grappa, Don Coletti trasferito, il saluto della comunità. L'ex sindaco Scopelli ringrazia il parroco per il ruolo svolto. Sedico in vendita il castello di Landrino, la storica dimora di Landris, sul mercato per oltre 2 milioni di euro, risale alla prima metà dell'Ottocento e è un parco immenso. Venne realizzata dal conte musicista Antonio Miari, che si ispirò all'architettura medievale e ospitò molti artisti. In epoca più recente, venne acquistato da un imprenditore belunese dopo qualche decennio di abbandono. Ed ecco appunto, dall'alto di una collina, la confluenza tra Cordevole e Miss e Miss e il castello di Landrino, che ora è stato messo in vendita con tutto il suo spettacolare parco per oltre 2 milioni di euro. Roccapietore, ladri in azione, casa devastata, cassaforte sparita. Passiamo a Cortina, Piazza Roma allargata, ecco una sua fotografia, ora è una terrazza sulla conca. L'ampliamento è stato ricavato dal tetto del parcheggio, multipiano appena finito. È punto panoramico, nel cuore del paese, pronto anche l'ascensore di collegamento. È sempre da Cortina, Coppa, gare di sci per 4 anni gestite dalla Fondazione. L'obiettivo è creare un interlocutore per le federazioni. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, adentriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 18, 8 Boschi prende prede delle Bostri con un'altra vaia, presenze e danni raddoppiati in un anno. Il coleottero ora attacca anche alberi in piedi verso abbattimenti per un raggio di 50 metri attorno ai focolai. C'è un'altra tempesta vaia in Aguato, potrebbe essere peggiore di quella di tre anni fa. Sospira preoccupato il professor Andrea Battisti, ordinario di entomologia dell'Università di Padova. In questi giorni sta scarpinando per i boschi del Bellunese e dell'Alto Piano di Asiago. Il Bostrico avanza attaccando il doppio degli alberi di un anno fa anche quelli in piedi è il suo grido d'allarme. I risultati del monitoraggio condotti con trappole a feromoni mostrano che nelle aree colpite da vaia la densità dell'insetto il Bostrico tipografo aveva raggiunto l'anno scorso preoccupanti livelli di circa 8-9 mila individui per trappola. Quest'estate, riferisce l'esperto, abbiamo raggiunto quota 20 mila. Non si perda tempo, bisogna intervenire. Questo l'appello lanciato dall'entomologo Andrea Battisti e IPS tipografus coleotero selettivo attacca prima le piante più deboli da uno scatto della devastazione di questo coleotero sugli alberi della provincia di Belluno. Pagina 19 Longarone, Safilo, menù diversificati, senza green pass, solo panini. Per chi non può entrare in mensa c'è l'unica alternativa di un'insalata, malumori tra i dipendenti Martinez della Wiltec che non si può discriminare. Orlando, morto a 63 anni, il fratello non l'ha più rivisto dopo il ricovero in ospedale. Danieli, di Roi di Sedico, si è spento nel reparto di pneumologia. Aveva già vari problemi di salute, ma il virus deve averlo influito. E ancora, adesioni ai vaccini gli over 40 raggiunti dai ventenni, notizia che riguarda la campagna vaccinazione anti-covid il 76% pari a 138.551 della popolazione vaccinabile in Ursula Dolomiti ha eseguito almeno una dose di vaccino anti-covid mentre due su tre bellunese, ovvero il 68,8%. Pagina 20 2 milioni di euro alle unioni montane per sistemare frane, strade e sentieri. La provincia eroga i contributi, i presidenti ne servono altri, il presidente della provincia Roberto Padrin pronti a intervenire con la manovra di novembre. Numerose le criticità nei territori colpiti da vaia e maltempo, i soldi non bastano mai. L'ultimo saluto oggi a post dal pago i funerali di Saviane, senatore della Lega e ancora l'operazione del demanio, gli uffici del Catasto alla Tasso, i servizi tornano in centro. Pagina 21 che ne abbiamo parlato anche ieri nell'edizione del Corriere delle Alpi, cascate dal ponte, il comune Bacchetta RFI metta i pluviali, noi agiremo a monte. Palazzo Rosso assicura interventi a Cavalzano, le ferrovie provano a minimizzare problemi solo con le bombe d'acqua. Dagli uffici tecnici già partite due lettere, l'assessore Giannone adesso voglia un incontro. Ed ecco appunto le cascate che scendono dal ponte della linea ferroviaria di Belluno quando ci sono i temporali e ahimè in Provincio di Belluno ormai sono una prassi. Caso politico, la minoranza va all'attacco, si passi all'azione legale, è una notizia che ci fa rimanere nel capoluogo bellunese, l'amministrazione stia più attenta a quello che succede sul territorio e se serve passi alle vie legali contro le aziende che lavorano male. Il consigliere comunale di minoranza Francesco Pingitore torna sulla protesta montata tra gli abitanti di Via San Francesco e sulle cascate d'acqua e sassi che puntualmente ad ogni pioggia scendono dal ponte della ferrovia. Quindi un approfondimento sempre in merito al caso che abbiamo appena citato. Pagina 22 Il mondo dell'istruzione e le scuole di Santa Giustina affidate alla Biga Belluno 1 alla Paceri. Le due neodirigenti avevano superato il concorso del 2017 e il comprensivo di Tricchiana sarà guidato da Farinola. Notizia di spalle commentato d'intesa corsi sui social media per insegnanti e studenti trasferta in Polonia. Continuiamo con Feltre pagina 23 Cantiere avanti tutta inaugurazione fissata al 28 ottobre contro la rovescia per l'altanone gli addetti dell'impresa Mubre stanno lavorando sulla copertura per realizzare il tetto verde tra le attività previste un panificio pasticceria un bistro e un negozio di prodotti no food. La regione Veneto premia il palio i 100% animalisti criticano la scelta Pelusio superate tante difficoltà con tributo di 15.000 euro da parte della regione Veneto appunto per il palio di Feltre. Siamo a pagina 24 se ne va Cestaro altro colpo per psichiatria dopo 30 anni di servizio il responsabile del SERD andrà a dirigere il medesimo servizio all'azienda sanitaria di Trento Guido Trento esterna la sua preoccupazione speriamo non si arrivi a chiudere il reparto Pedavena domani l'ultimo saluto al camionista morto nello schianto in moto parliamo di Iurio Divinochuk cesio maggiore Tessaro eseguita l'autopsia atteso l'esame tossicologico l'esame autoptico eseguito ieri dal medico legale Cirnelli la famiglia del ragazzo di Soranzene ha nominato un proprio consulente pagina 25 rimaniamo nel Feltrino se rende il grappa fatta saltare la roccia instabile sulla strada a costa dei Sassette l'esplosione nel cuore della valle in corrispondenza dell'abitato di Stalle nei prossimi giorni servirà una seconda deflagrazione per completare il lavoro ed ecco uno scatto dei massi che sono arrivati fin sulla strada in località costa dei Sassette Santa Giustina e Ignani inaugurato il Cassell costato 300.000 euro Queirovassa la minoranza interroga il sindaco sull'efficienza della videosorveglianza e adesso siamo a pagina 26 Cervo muore in una forra nessuno lo ha salvato Fabio Rufus Bristot rilancia la denuncia partita da appassionati svizzeri di canyoning l'animale è rimasto intrappolato alla soffia nell'area protetta del parco delle Dolomiti l'articolo a firma di Stefano De Barba un giovane esemplare di Cervo rimasto intrappolato ancora prima di Ferragosto in una forra della soffia al lago del Miss è morto in quella prigione di roccia ed acqua dopo aver tentato inutilmente per giorni la fuga senza che nessuno lo salvasse le immagini dell'animale riverso senza vita sulla roccia rilanciate dal consigliere comunale belonese Fabio Rufus Bristot hanno scatenato una polemica social sul mancato salvataggio del cervo all'interno dell'area protetta del parco delle Dolomiti e sulla crudeltà della sua morte le autorità sono state avvertite aveva scritto infatti su infolivelli una pagina facebook di appassionati di canyoning ed esplorazione di corsi d'acqua allo sportivo di una committiva svizzera che il 14 agosto aveva pubblicato le immagini del bel esemplare di un gulato bloccato nella forra della soffia morto di stenti nonostante la disponibilità data dai forristi gli appassionati di discesa di torrenti fuori da quell'area sarebbero intervenuti ed ecco appunto uno scatto del cervo intrepolato alla soffia ma ancora in vita e purtroppo il cervo senza vita nell'immagine diffusa da Rufus Bristot sta diventando una riserva indiana non un parco dove il territorio viene anche valorizzato contesta Christian Dacanal presidente ASD Adventure Valbelluna e canyoning Borgo Valbelluna solo poche settimane fa l'associazione assieme a canyoning Dolomiti Belonesi ha organizzato al castello di Zumelle un evento dedicato al forrismo in Valbelluna e alle sue potenzialità Sospirolo il comune acquista il kit di pannorini lavabili da affidare ai genitori Borgo Valbelluna Tricchiana ultimi lavori alle scuole elementari lezioni al via in classe siamo a pagina 27 del Corriere delle Alpi Val di Zoldo Ponte sul mai poco sicuro entro ottobre pronto un Beli la struttura sarà messa a disposizione in comodato gratuito dalla provincia dei pellegrini il sindaco a caccia dei soldi per rifare infrastruttura fra Fusine e Soramae L'Ungarone Accademia dell'Occhiale cert'ottica fa conoscere la sua offerta formativa e ancora l'iniziativa 20 di guerre di tempesta sulle tracce del conflitto e di vaglia l'associazione Monte De Vì ha riproposto l'itinerario artistico in Zoldo dedicato alla riflessione sulle calamità che hanno devastato il territorio Rocca Pietro centro di protezione civile il progetto sarà potenziato l'amministrazione valuta di investire anche l'annualità 2021 dei fondi di confine il sindaco De Bernardine l'esperienza di Vai ha fatto capire le lacune da colmare il comune avvia la gara per affidare i lavori mancanti al parco Reombro sempre dalla Gordino sistemazioni di edifici appaltati tre interventi notizia che ci porta a D'Agordo canale D'Agordo tornano i pellegrini a canale per l'anniversario di Luciani domani la messa Cortina il canto in sollecita udienza Ghedina conferma il suo no vittorio pesato ci va giù duro servirebbe più cortesia verso chi investe quassù invece dal municipio solo una malcelata osterità verso il circolo e chi lo frequenta San Vito escursionista solitaria precipita per 50 metri in un canalone sul Giao e ancora continuiamo con pagina 30 Martagon pronto a sfidare Zanella aspetto un segnale dalla gente per 15 anni in giunta con Manfreda correrebbe da sindaco ma vedo troppo disinteresse in paese con lui l'ex assessore Mirian Zanella la squadra è pronta dateci l'ultima spinta San Nicolò polemica sulla viabilità sulla strada statale 52 Bond l'onorevole Bond cantieri fermi e disagi ma il sindaco ianese minimizza siamo arrivati alla rubrica cultura e società sfilata a San Marco e modelli in gondola con Dolce Gabbana tornano i fasti del lusso gli stilisti per tre giorni in laguna con le nuove collezioni le testimoniali in passarella i gioielli a Palazzo Ducale dalla rubrica giorno e notte Nicolò Fabi pronto a catturare il pubblico feltrino con la sua poesia il cantautore domenica in piazza maggiore per un viaggio tra le tappe della sua carriera e ancora Borgoval Belluna storie di tavola con Marzo Magno sprint di Trichiana paese del libro Belluno musica d'autore italiana al Fulcis c'è il Movi Trio e ancora Agordo Buzzati Orsi e Dolomiti le storie si fanno cinema San Gregorio nelle Alpi proiezioni sotto le stelle con i corti del lago Film Fest in questo scatto vediamo Viviana Carlet del lago Film Fest passiamo allo sport bellunese calcio la Lazio Cup demine piazza subito titolari e l'Under 18 LND piega il Benevento il centrale bellunese ha giocato gli interi 90 minuti ha anche sfiorato il gol su punizione il centrocampista della Dolomiti schierato in mezzo è invece uscito nel finale 1-0 tra Under 18 LND e Benevento trofeo regione Veneto i quadrangolari eliminatori al via dal 5 settembre per quanto riguarda la promozione la prima e la seconda categoria Ok De Bettina e Riga con il Blue Team in palio il pass per Tokyo 2022 Rugby Serie C Coppa lavoro affari spenti navighiamo fra le incognite il neotecnico del Feltre trova un quindicesimo fermo da due anni e con il morale da ricostruire gli obiettivi impossibile fissarli per ora basterebbe riuscire ad andare in campo Premio Mauro Gorza colpo grosso Damiano Tommasi ospite d'onore l'appuntamento della Juventina Mugnay fissato per il 10 di settembre e ancora calcio di Serie A Ronaldo Juve o una nuova sfida il club CR7 resterà con noi la gente lo offre al City di Guardiola al Paris Saint Germain sognano ancora la coppia con Messi il futuro dell'attaccante bianconero trasformato in un vero e proprio tormentone ma continuiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani in pianura cielo sereno o al più poco nuvoloso in montagna e sui settori nord-orientali probabile aumento della nuvolosità nel corso a fine giornata 20 in pianura al mattino nell'entroterra deboli da ovest sulla costa deboli moderati mare da mosso a poco mosso temperature minime in calo senza notevoli variazioni in quota massime in genere ripresa è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana a voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM la web radio dell'associazione bellunesi nel mondo a voi diciamo